Il Signore la vive noi, oh Padre, nel segno di quest'atto sua benedetta, l'adesione a Cristo via verità e vita. In nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Intitolata la piazzetta adiacente, la porta di accesso al centro storico a Luisa San Felice. Inoltre è stata collocata nella stessa area una panchina tricolore, ricordo degli eroi della Repubblica e in particolare di Vincenzo Carnicelli, primo agropolese ad avere ricevuto una medaglia al valore militare in guerra dopo l'unità d'Italia. Sindaco Coppola, a distanza di quattro anni, questo spazio pubblico ritorna ai cittadini di Agropoli. Oggi l'intitolazione di questa piazza, Luisa San Felice, è anche la realizzazione di una panchina tricolore. Una bella giornata per la città di Agropoli che finalmente potrà godere di questa piazzetta panoramica. Sì, è chiaro che la piazzetta naturalmente era già aperta, quindi era già disponibile. Come sapete però rispetto all'utilizzo c'era stato un contenzioso che è chiuso con i privati e quindi per risancire, se ce ne fosse la necessità, la libertà di accesso, che ripeto non è stata mai negata, però in passato abbiamo organizzato questa giornata. Ma questa è stata naturalmente l'occasione ghiotta per ricordare un po' la storia della nostra città. E l'intitolazione a Luisa San Felice non è casuale. Luisa San Felice rappresenta realmente un personaggio storico di grande importanza e il suo legame ad Agropoli andava segnalato perché anche lei, Luisa San Felice, ci aiuterà in questo percorso di crescita della nostra città in termini di visibilità, di brand, per essere conosciuto. E quindi questa è l'intitolazione sicuramente, oltre a raccontare la storia di Agropoli che ha tante sfaccettature ancora non conosciute e quindi dobbiamo lavorare per raccontarla ancora meglio, ci dà l'occasione simbolica di riaprire come fu fatto a loro, perché allora Luisa San Felice morì proprio perché aveva combattuto una rivoluzione che poi la vede perdente, ma che poi simbolicamente ha vinto. Quindi ecco qui la logica che stiamo utilizzando anche oggi, ricordando Luisa San Felice, questo vogliamo dire che ci sono luoghi simbolici belli come questo che devono andare oltre le polemiche, oltre diciamo noi stessi, ma rilanciare la storia della nostra città, di Agropoli. E il posto è bellissimo, da qui si vede uno scorcio veramente bello, però abbiamo colto ecco una duplice occasione poi, abbiamo aggiunto il posizionamento di una panchina tricolore proprio per cercare di raccontare ancora meglio la nostra storia abbiamo voluto ricordare un cittadino di Agropoli che viveva nel centro storico, che rappresenta la prima medaglia al valore consegnata a lui dopo l'Unità in Italia. Cittadino di Agropoli che si è battuto e ha ricevuto la medaglia al valore e si tratta di Vincenzo Carnicelli. Quindi ecco che andiamo a raccontare di Luisa San Felice e della storia di Luisa San Felice, e quindi raccontiamo così la storia di Agropoli e raccontiamo anche la storia di un cittadino che si è fatto valere e che è morto anche lui, e si è battuto anche lui per la patria e per la città. E' quindi un momento secondo me molto bello che sicuramente darà nuova spinta e crescita al nostro centro storico. Sindaco, era stata predisposta prima di questa panchina tricolore una panchina degli innamorati, realizzata insomma anche da artigiani del posto. Quella panchina sarà collocata sempre qui nel centro storico, insomma avete pensato di metterla a questo punto su un'altra piazzetta panoramica? Ma in realtà non è che... Allora se noi parliamo di questa cosa non possiamo definire una panchina. In realtà noi abbiamo chiesto degli artisti locali nostri di realizzare un'opera d'arte, perché definire una panchina è molto riduttiva, un'opera d'arte che in qualche modo sia un altro momento di incontro, un momento bello per esaltare i luoghi, le bellezze e gli angoli del centro storico. Quindi stanno finendo di realizzare questo progetto, parte da una panchina, è legata naturalmente all'amore, è legata a un momento di incontro, di accoglienza, quindi fra poco vi invideremo per presentare questo nuovo progetto, ma più che una panchina è un'opera d'arte che vuole in qualche modo essere posizionata in un posto per valorizzarlo, per farlo vivere di più, per che sia un elemento di attrattiva. Sono anche queste piccole cose che diventano grandi e fanno crescere la nostra città, quindi ci stiamo lavorando, pensiamo che nelle prossime settimane, probabilmente sotto Natale, sarà presentato anche questo altro progetto, però non sarà una panchina, è qualcosa di più, poi vedrete e vi renderete conto.